che puliti sono fatti di preziosi minerali e in questa natura strana e simbolica e in questa natura strana e simbolica che rottura di coglioni dove l'angelo inviolato si mischia alla sfinge antica la sfinge la scrivo minuscola o maiuscola mi spappola il cervello questa poesia la scriva con la s maiuscola a che serve perdere tempo su queste cazzate la stinge i minerali gli angeli a te interesserebbe uno che ti parla così tu sei più basic nell'approccio si mischia alla sfinge antica e poi ma fisicamente com'è questa eleonore non lo so non lo so quello che mi importa è che esiste un approccio intellettuale emozionale prima di incentrare tutto sul fisico cerco una relazione tra spirito e spirito tra spirito e spirito ma se è una cozza è una relazione tra spirito e cozza che classe veramente complimenti bravo beh da quanto tempo dura la storia è insopportabile da sei mesi sei mesi sei mesi e non l'hai mai vista ma e se fosse una balena un cesso può essere indicappata alla fine della poesia ci devi scrivere a chiappe come stai messa scusa grazie infinite di ris per i tuoi consigli molto pertinenti riprendiamo dove ero rimasto mi pare a una sfinge che mangiava dei minerali insieme agli angeli e poi correva faceva delle cose strane allora e in questa natura strana e simbolica e in questa natura strana e simbolica bisogna chiamarla dove l'angelo inviolato si mischia alla sfinge antica bisogna chiamarla ti dico lo disposto comunicare molte più cose per lettera d'accordo incredibile d'accordo ma intanto cerco il numero di telefono perché cominciò a rompermi le palle viene da dunker che non va per niente bene rimetti a posto quella busta driss non c'è mai stata una misfrancia di dunker in genere fanno schifo da quelle primetti l'ha posto immediatamente ha messo il numero di telefono l'ha aggiunto a mano è un segnale vuole essere chiamata rimettila posto per piacere ma che vuoi di più filippo ha scritto il numero di telefono a mano che vuol dire chiamami ti leccherò l'orecchio ma si è così fili dove chiamare lei se ne frega delle poesie sei mesi di poesie completamente pazzo quest'uomo io comunque non le parlo spero che non abbia l'accento di quelle parti non si può sentire metti giù quel telefono voglio il mio filippo l'avrai bella l'avrai la voce non è male pronto no no improvvisa parla della vecchia sfinge inventa eleonore sono filippo ecco io l'ho chiamata perché avevo molta voglia di sentire il suono della sua voce e devo dire che già con questo piccolo pronto mi ha conquistato un attimo gliela passo frasi troppo lunghe devi essere più semplice pronto eleonore sono filippo filippo stavo cominciando a scriverle una lettera poi di colpo all'improvviso ho pensato perché non telefonarle chiedile quanto pesa è importante come ma no 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 niente un attimo un attimo un attimo un attimo